Ciao, mi chiamo Lesbii e questo video parla della mia vita a Milano. Andiamo! Primo, siamo a Navili perché è decisamente il simbolo del mio semestre a Milano. In generale, il tempo di qualità con i miei amici è la mia attività preferita. Quindi, Navili è perfetto perché ci sono molti ristoranti diversi qui, come pizzeria, sushi e cucina messicana. E dopo ceniamo, io e i miei amici prendiamo sempre il gelato per dolce. Delizioso! Allora, siamo a Milano Trentale. Amo il trasporto pubblico a Milano perché è facile e veloce. Ma ho notato che la gente mi fisa quando io sono in metro. Non so perché, che strano. Dall'altro lato, amo Milano Trentale perché qui ho fatto una cosa nuova. Ho viaggiato da sola. Nel fine settimana, di solito vado a Trentale per usare il treno veloce o Mappense Express. Durante il semestre, sono andata al Lago di Como, Verona, Venezia, Roma e Amsterdam. Ora, apprezzo il mio tempo da sola. So, l'audio in questo next clip è davvero male, quindi faccio una voce-over e apprezzo che è me in quel momento. Finalmente, siamo a quartiere cinese o Chinatown. Ci sono molti ristoranti asiatici qui, come quelli giapponese, thailandese e coreani. Per me è stato difficile abituarmi a cenare tardi in Italia. In America, di solito cenno alle 17 e mezza. Ma qui, i ristoranti aprono alle 19. A Chinatown, ho fatto una cosa nuova. Studiare nei caffè per ore con un'amica. A differenza di Los Angeles, è normale rimanere in un caffè per tre o quattro ore a Milano. Mi piace perché io sono più produttivo quando studio in luoghi pubblici, invece che nella mia camera da sola. Allora, questa è la mia vita a Milano. Questo semestre ho imparato che il tempo vola così velocemente. E il tempo anche guarisce tutto. Quindi, invece di preoccuparmi delle esperienze negative, lo so che qui, adesso, ho amici gentili, ottimo cibo, è più importante, ho me stesso. Non ho bisogno di fingere di essere qualcun altro. Posso essere autentica. Come risultato, ho incontrato e mantenuto amici che me amano incondizionatamente. Sono appagata, amata e grata. Bene, grazie mille per l'attenzione. A dopo, amori. Ciao, ciao.